Iniziamo subito con la prima notizia perché con l'avvicinarsi della primavera sono numerosi i progetti futuri che intende mettere in atto il comune di Valefoglia. Dai lavori del nuovo comune che procedono spediti fino ad un possibile rinnovo della piazza principale di Montecchio. Il sindaco Palmirocchielli in questa intervista ha fatto il punto della situazione. Questa è un'area molto in movimento sia dal punto di vista delle opere pubbliche sia dal punto di vista delle attività private. Sono molte le opere pubbliche e molte le attività private anche di nuove aziende in controtendenza rispetto alle vicende della pandemia. Stanno andando avanti i lavori del comune, stiamo vivacizzando un po' anche i mercati. Il mercato di Montecchio che è un grande mercato ormai paragonabile a quello di peso, un mercato di bottega che domani in via sperimentale lo riportiamo su Piazza Rossini e poi vedremo se riportarlo dove l'avevamo trasferito durante i lavori della piazza. E poi sono numerosissime le attività, stanno ultimando oramai i lavori per rendere i nifu, il teatro, diciamo, branca di Sant'Angelo in Lissola. E abbiamo avuto un incontro recentissimamente anche con Riviera Banca che sono interessate con Marche Multiservizi, il Consorzio di Bonifica, l'Università di Urbino, tutti attori per questo progetto agroalimentare e di controllo dell'aria, dell'acqua e dei prodotti che vanno sulle tavole delle persone per avere un'alimentazione di qualità, di forte tutela della salute delle persone. Quindi, diciamo, poi abbiamo costruito oltre 400 loculi perché è un territorio che ha anche queste necessità, sia Montecchio, sia Montefabri, sia Colbordolo, per dare delle risposte. Stiamo studiando un'ipotesi di ristrutturazione della piazza di Montecchio e di ristrutturazione anche del cimitero, compreso l'accesso al cimitero di Montecchio, che è quello più grande, che vengono anche da altri comuni. Quindi su Montecchio sono ultimati i lavori di consolidamento dei movimenti franosi nel monte di Montecchio per circa 500 mila euro. Ho parlato proprio stamattina con il Consorzio di Bonifica per la messa di sicurezza del Fosso Taccone, per l'area di l'ammenazione, un paio di milioni di investimenti importanti e quindi la riqualificazione della piazza principale. Lì abbiamo speso quasi 200 mila euro già in tutta la nuova illuminazione, in piazza della Repubblica, in piazza dei quartieri, nel viale che va verso la chiesa. Abbiamo illuminato tutto con le lampade a LED, tutta una riduzione anche dei consumi energetici, quindi è una situazione molto in movimento, che ovvio lavora per il benessere della comunità, per la tutela della salute e per, diciamo, soprattutto ritornare quanto prima alla piena occupazione, se passa questa buriana lunga, ahimè, del coronavirus, con tutti i vaccini. Ho mandato una lettera stamattina all'assessore regionale per dire che gli ultraottantenni facciano, diciamo, il vaccino o nella casa della salute, al palavitri, dove abbiamo fatto i tamponi, o meglio, come ha fatto il Governo nazionale, che ha fatto l'accordo con i medici di base, cosa che avrebbe dovuto fare la Regione Marche, e farlo tutti negli ambulatori dei medici di medicina generale, medici di famiglia, che sono abituali, diciamo, le persone che vanno da oltre 80 anni in avanti.